Buonasera, benvenute, benvenuti. Questo è un appuntamento molto sentito, si vede dalla sala. Donatella di Pietrantonio non ha bisogno di presentazioni. Io invece sì, sono una giornalista della stampa, mi chiamo Simonetta Shandivashi, sono molto contenta di essere qui stasera perché il libro di cui parliamo, l'ultimo libro di Donatella, è un libro che tocca alcune corde che mi sono particolarmente care e sarà difficile parlarne perché è anche un libro pieno di suspense e di, non voglio dire colpi di scena, usare questo linguaggio televisivo, però di certo è un libro fatto di alcune piccole verità che si scoprono di volta in volta. Allora cerchiamo di parlarne, di toccare le cose grandi che ci sono dentro questo libro. Innanzitutto io voglio partire dalla cosa che, la prima cosa che mi ha commossa è della scelta dell'esergo. È una frase di Simone de Beauvoir che tengo a leggervi e che ti chiedo subito come mai hai scelto. Non esiste una morte naturale, di ciò che avviene all'uomo nulla è mai naturale poiché la sua presenza mette in questione il mondo. Grazie e buonasera a tutte e a tutti. Questa frase l'ho scelta scrivendo una mezza paginetta, anzi forse sono anche meno righe, che riguardano il ricordo che la voce narrante Lucia ha di sua madre morta. Per una volta in un mio libro il tema della maternità c'è tantissimo in l'età fragile, ma non c'è dal mio solito punto di vista, cioè da quello della figlia adulta che parla del materno nel senso del rapporto che ha avuto con la madre. Qui c'è tanto di maternità, ma il punto di vista è quello della madre adulta che si confronta con una figlia giovane. Però c'è questa mezza paginetta in cui Lucia ricorda sua madre nella malattia che precede la morte. E questo mi ha portato su Simone de Beauvoir e su Una morte dolcissima, che è un libro che avevo letto tantissimi anni fa e di cui ricordavo molto poco. Però nella parte finale c'è questa frase che mi ha molto colpito e che sento molto vera, l'ho sentita molto vera, anche nella realtà proprio della mia vita e della morte di mia madre che è avvenuta un po' di mesi fa. Cioè questa riflessione iniziale che non esista una morte naturale. E molte volte mi è capitato, quando non la vivevo in prima persona, di sottovalutare quasi quel tipo di lutto e quel tipo di fragilità. Cioè quello della figlia adulta, come è Simone de Beauvoir in quel piccolo libro, una morte dolcissima, quello della figlia adulta che perde la madre, che perde una madre malata, anziana, che ormai non ha più speranze e che non è neanche più la madre che abbiamo avuto, che si è trasformata in qualcun'altra, che la malattia ha trasformato e ha alterato. E però quando poi arriva quel momento della separazione, non è mai come l'abbiamo immaginato prima. Io stessa, e in questo l'ho sentita molto vicina la voce di De Beauvoir, io stessa avevo pensato tante volte sarà una morte naturale, sarà uno scivolare da uno stato, da una condizione che non è più vita, in un altro stato che sarà comunque liberatorio. E invece poi, quando ti trovi sul momento, capisci che non è così, che non è mai il momento di lasciare andare. e occorre molto tempo, occorre molto tempo dopo per lasciare andare quando sei da sola dentro di te e l'altra, la madre, non c'è più. Ti ringrazio, non ho mai parlato di questo. Ripeto, il lutto di mia madre è recente e tra l'altro questa scena del libro, dell'età fragile relativa proprio alla perdita della madre io l'avevo già scritta quando mia madre è mancata e quando poi è successo realmente ho capito che comunque avevo completamente anticipato con la scrittura quello che poi avrei provato. Insomma, c'è stata tutta questa triangolazione tra la realtà del mio lutto personale e il libro e in particolare questa frase di De Beauvoir e la mia anticipazione del distacco attraverso la scrittura. Grazie. A te. Allora, agevolo per chi magari è qui e non ha letto il libro questo è un romanzo che parla moltissimo di una mamma e una figlia Lucia e Amanda tra l'altro sono due nomi significativi poi magari io non so se tu quando scegli i nomi c'è un motivo, penso che ci sia sempre poi magari su questo torniamo ed è una storia che comincia in un momento particolare io immagino ve lo ricordate tutti quanti quando è iniziato il lockdown e c'erano quelli che desiati chiamerebbe gli spatriati gli studenti soprattutto meridionali o comunque insomma da Milano in giù che lasciavano Milano soprattutto sono scene che ci sono state anche a Roma soprattutto a Milano di corsa in cerca di un treno che li portasse a casa prima che il paese chiudesse mi ricordate questa espressione? Ecco Amanda torna a casa è una di quelle che riesce a trovare posto per tornare a casa e Lucia non la riconosce ammesso che l'abbia mai riconosciuta perché le è successo qualcosa che si scoprirà dopo la prima cosa interessante è che la mamma si accorge che la figlia sta male e la sofferenza della figlia sta nel fatto che è andata in un posto che l'ha fatta sentire trasparente questo è un tema gigantesco che vivono tutte le famiglie italiane moltissime moltissime famiglie italiane di cui non si parla mai abbastanza io lo so l'ho vissuto l'esilio in casa l'ho sempre chiamato così ed è una condizione che crea una distanza enorme con i genitori ed è una distanza che è impossibile colmare perché quando tu vai via da casa vai via perché i tuoi genitori hanno una forte aspettativa nei tuoi confronti e quell'aspettativa è il disegno che soprattutto loro si sono fatti su di te e c'è una retromarcia in tutto il libro rispetto a quel disegno che Lucia fa allora quello che poi ci sono una serie di altre cose questo è l'avvio della storia ma quello che ti vorrei chiedere Donatella che è la parte che mi ha interessato di più è a proposito di naturale tu hai indagato la relazione mamma figlia allora quanto c'entra la natura in un rapporto madre figlia che cosa che cosa c'è di naturale e io mi permetto di dire anche di innaturale nella relazione tra una mamma e una figlia diciamo che sulle madri sulle spalle delle madri sono caricate delle aspettative enormi io direi disumane per cui ci si aspetta io non lo so quanto c'è di naturale non ti deludo in anticipo non lo so quanto ci sia veramente di naturale quello che so è che c'è una pretesa enorme che le madri siano naturalmente perfette naturalmente empatiche che abbiano una capacità di intuire magicamente tutto ciò che passa dentro un figlio dentro una figlia adulta allora Lucia è la più imperfetta delle madri in questo senso lei confessa da subito che tutta questa intuizione le mancava già quando Amanda era piccola racconta questa scena nella sala d'aspetto del del pediatra in cui tutte le altre riconoscevano al primo strillo al primo vagito se il bambino aveva la colichetta il mal d'orecchie o quant'altro e lei no quindi lei partiva già con un difetto in questa naturalità o in questa naturalezza nei confronti della figlia cioè lei non aveva quando ancora erano in una fase ancora fusionale lei già non ce l'aveva tutto quello che chiamiamo chiamavamo non lo so se si usa ancora istinto materno perché è quello che in fondo si pretende no dalla madre l'istinto materno onnipotente che arriva ovunque nei più segreti recessi del figlio e capisce sostiene e risolve tutto allora lucia è in questa posizione lei dice io già quando era piccola non la capivo tanto mi trovavo in difficoltà avevo paura di lei questa è una cosa io la racconto perché non ha senso insomma fingere di questa è una cosa che per esempio io personalmente ho provato tantissimo subito dopo il parto quando scaduti i tre giorni di ricovero in ospedale bisognava tornare a casa io avevo paura di questo bambino avevo paura di essere inadeguata a capire appunto i suoi bisogni e a corrispondergli quindi è qualcosa che che ho provato di persona dopodiché qui spostandoci nel presente c'è questo ritorno di una figlia diversa quindi intanto è verissimo quello che dicevi prima no quando da figli si parte per andare a studiare fuori insieme alle valigie con tutto quello che serve compresi i sughetti che Lucia ha preparato per Amanda si porta questo grande bagaglio delle aspettative familiari del mandato familiare genitoriale ed è un peso è un peso grande cioè parte parte il figlio la figlia ma poi diventa nella mente dei genitori un figlio immaginario noi non sappiamo più chi è nostro figlio in quella città lontanissima Amanda ha scelto la più grande e la più lontana delle città perché lei dice che solo a Milano la vita le accadrà davvero da quel momento Lucia non sa quasi più niente di lei se non quel poco che passa attraverso le telefonate rassicuranti che ci si fanno tra genitori e figli no e figli fuori fuori sede ma una figlia per telefono può davvero raccontare questo diventare trasparenti in una città che per alcuni risulta alienante e in fondo questi ragazzi che crescono in piccole realtà come come i paesi sono cresciuti non solo dalla famiglia ma anche da una comunità da una piccola comunità che è una grande famiglia allargata ecco trovarsi come capita ad Amanda anche in una situazione di emergenza ed essere invisibile trasparente non trovare nessuno che l'aiuta può essere veramente destabilizzante però lei non lo dice alla madre la rassicura in quel momento sto sto dicendo troppo non credo non ti preoccupare il libro è tuo quando bene in quel momento c'è una una collusione di immobilità io direi in Amanda è una immobilità della della parola cioè lei non racconta alla madre che cosa le è successo davvero e quanto sia stata colpita in Lucia c'è proprio una immobilità fisica nel senso che lei non parte lei è una madre insicura pensa se adesso io vado sono intrusiva sono invadente lei ormai è adulta è andata nella città che ha scelto sicuramente è contenta quindi io non rispetterei la sua autonomia ecco sbaglia esattamente quel momento cioè fa la cosa giusta al momento sbagliato perché in quel momento invece Amanda avrebbe forse bisogno di una visita della madre e quindi non funziona questa sintonia ma questo può può capitare perché siamo a volte madri imperfette siamo anche figlie imperfette dopodiché certo torna questa figlia che che non parla che è silenziosa che si chiude dentro la camera e questa chiusura di Amanda nella la sua stanza prima l'hai detto del lockdown riverbera con tutta la grande chiusura di tutto il paese anzi di tutto il pianeta grazie questa cosa che tu hai raccontato a me fa pensare moltissimo alla solitudine delle mamme nel senso al di là di quello che ci si aspetta alle mamme appunto alla perfezione che raccontavi ma la solitudine delle mamme è la solitudine dei genitori che secondo me in questo paese è fortissima perché è un paese profondamente familista dove però nessuno ha idea del fatto che i figli sono di tutti quanti e questa è una cosa che i genitori dei figli che vanno via nella grande città sperimentano moltissimo io mi ricordo la prima volta che mia mamma mi ha messa su un treno io avevo 14 anni dovevo fare il capodanno a Parma e mia madre mi ha messa su questo treno precoce precoce perché era stato per volere di mio padre ovviamente no? ecco e mia mamma aveva trovato una signora che le sembrava rassicurante le sembrava un'altra mamma e le aveva detto va di lei a mia figlia e questa qua l'aveva guardata come se fosse pazza effettivamente mia mamma in quel momento era pazza per lei io sarei morta in quel viaggio lì invece sono sopravvissuta ma però questo è il punto che secondo me tu racconti benissimo cioè che dalle piccole comunità dove forse c'è ancora l'idea della famiglia queer che non è solo una famiglia fondata non solo sui legami di sangue ma per come la intendo io è il fatto che i figli sono di tutti quanti quindi la responsabilità è di tutti ecco nei nostri piccoli centri c'è nelle grandi città invece si perde completamente quindi i genitori sono da soli e in più oltre a essere da soli a non poter contare sul fatto che se mia figlia si sente male per strada quando torna a casa o viene aggredita quando torna nel suo palazzo chiederà aiuto a una vicina e quella vicina interverrà ma non possono neanche contare sulla assenza di giudizio del resto della comunità perché quando succede qualcosa di brutto a un figlio è un po' colpa dei genitori che non lo hanno aiutato a sapersi difendere e poi c'è un altro tema ancora che secondo me tu hai introdotto ed è quello dell'invadenza ora io non ho figli però sono sicura che questo sia un problema educativo che cosa fa più bene a un figlio l'intrusione ma questo vale in tutte le relazioni secondo me soprattutto in questo momento qua in cui siamo ossessionati dal confine non possiamo toccarci tutto è sopruso ecco credo che questa questa cosa tu l'abbia toccata tantissimo e poi c'è un altro elemento di solitudine profonda di questa mamma e cioè il papà che viene a Torino tra l'altro a un certo punto e il papà non c'è se non nella forma della recriminazione il primo momento in cui questi due genitori che si sono separati senza rendersene conto parlano della figlia che è tornata a casa durante il lockdown e non vuole più studiare è un momento in cui si analizzano le colpe ma effettivamente c'è questo questo papà che attribuisce tutto a lei e si le chiede quando Lucia appunto dice che Amanda non parla nemmeno con lei raccontiamo mezzo libro il papà telefona ripetutamente ad Amanda e Amanda non gli risponde perché è nella sua chiusura nel suo ritiro in camera allora lui in seconda battuta telefona a Lucia cioè la sua ormai ex non non formalizzata ma diciamo ormai qua quasi ex moglie c'è anche questa difficoltà nel lessico Lucia a un certo punto dice ma io questo come lo chiamo ex marito non risulta padre di mia figlia marito non non sa nemmeno più lei come chiamarlo in questo limbo no tra separati e non separati quindi lei appunto risponde a questo padre e dice guarda che non parla nemmeno con me insomma nella sua camera non fa niente e lui dall'esterno da lontano da Torino in Abruzzo chiede e tu non riesci a smuoverla e quindi qui certo hai moltissimo ragione a dire che questa madre è sola è sola ma è anche bersagliata perché il marito da lontano chiede non riesci a smuoverla lei risponde vieni tu a provarci ma c'è il lockdown e quindi lui dice tu sai che non posso quindi intanto c'è la prima attribuzione di totale responsabilità uno perché tu sei la madre due perché tu sei lì io sono qui e non posso muovermi ho un pretesto magnifico c'è il lockdown in tutta Italia e non solo anche anche il vecchio padre di Lucia il patriarca il patriarcato le attribuisce delle delle responsabilità delle colpe in quel suo modo molto primitivo no dice sei troppo molle tua figlia non non sta nel bar dove dove ti dice di lavorare vedi che devi fare vedi che devi fare con tua figlia quindi anche qui un intervento molto molto intrusivo molto invadente sebbene motivato dall'amore sicuramente per questa nipote però ancora una volta è sulla madre che è l'unica presenza vera reale vicino ad Amanda che si scarica la responsabilità di tirarla fuori da quello stato da quella condizione di ritiro ecco quindi più solitudine di questa solitudine colpa accuse più o meno velate e invece e invece forse l'unica risposta viene nella fantasia nell'immaginario di Lucia dalla madre che è morta che non è morta di morte naturale quando lei pensa a cosa le direbbe sua madre per per aiutarla le direbbe aspetta aspetta perché a volte la più passiva delle risposte può essere quella giusta se non ce l'hai la risposta giusta a volte devi avere semplicemente la la pazienza la capacità di sedare la tua ansia ansia e aspettare di capire o o o che qualcosa cambi mi sembra la risposta dell'italia interna proprio no questa che tu dai perché qui c'è l'italia interna della provincia quando tu parlavi del papà di Amanda io mi ero segnata questa parte qua mi hai chiesto di aiutare Osvaldo e poi hai aggiunto se te lo senti se gli vuoi bene è questo che intende mio padre se te lo senti cioè se gli vuoi bene tu racconti a proposito di patriarcato del papà e del nonno di Amanda e di del suo amico Osvaldo adesso raccontiamo un po' la storia o forse no non lo so non so mai se la possiamo se la possiamo raccontare però di questi uomini che si sono voluti bene senza aiutarsi si può dire o si sono aiutati per le cose minime eh ammazzando gli agnelli senza ricordarsi chi l'ha portato e dividendolo senza guardare le percentuali con Italia interna della provincia l'Italia montuosa intendo questo le relazioni le amicizie che si sono radicate sul bisogno sulle cose semplici e tu qui lo racconti molto ma ti chiedo se il ricorso che fai molto alle ossa la protagonista è una fisioterapista giusto ecco e c'è un sacco di gente che ha problemi con le ossa non solo perché c'è una fisioterapista ma proprio è un racconto che c'è moltissimo è legato anche ovviamente al tuo altro lavoro ma il dolore osseo che c'è in questo libro ha un significato più preciso di qualcosa che perdonami io cerco sempre la metafora e il senso recondito però appunto siamo tra i boschi sulle montagne nell'Italia nell'Italia interna c'è un fatto di sangue di sangue che si è che si è consumato e scoprirlo aggiusterà molte delle cose o le porterà porterà questi nodi al pettino molte delle cose che ci stiamo raccontando tutto questo non può secondo me non avere a che fare con l'osteoporosi le ossa che fanno male lei che deve aiutare un pastore che ha problemi con l'anca ma io credo che questi personaggi maschili un po' primitivi arcaici un po' violenti no ce n'è uno che che loro le ragazze lucia e la sua amica ci sono due linee del tempo quella del presente con amanda è una del passato di quando questo fatto di sangue è avvenuto in cui c'era appunto lucia ragazza la sua amica doralice ragazza e c'erano tutti questi personaggi che erano i loro genitori questo charango che loro chiamavano addirittura cowboy uno che viveva in una specie di stato di natura appena poteva d'estate se ne andava lasciava la famiglia e viveva nello nello stazzo sui pascoli per per i boschi ecco in un posto così in una piccola comunità così accade l'inconcepibile e loro che cosa fanno accade questo questo fatto di sangue possiamo dire un duplice femminicidio tanto accade nelle prime pagine allora non si chiamava così allora si chiamava nel io mi sono parzialmente ispirata a un fatto reale si chiamava sui giornali il massacro del morrone il delitto del morrone scusate ci sono due r comunque è quello loro che cosa fanno la per la grande concitazione ricerca dell'assassino cacciatori che partono con i fucili in spalla eccetera eccetera concitazioni arrivano dove si erano mai viste le televisioni giornalisti fotografi e subito e subito dopo subito dopo basta subito dopo silenzio perché perché quel fatto lì confligge con la rappresentazione che tutti hanno del loro luogo del loro luogo di nascita e di restanza e qual è la rappresentazione la narrazione che ci si fa ma che che anche ci facciamo nella realtà di questi luoghi dell'Italia interna ci manca tanto dobbiamo fare 30 chilometri per andare al cinema ci mancano i teatri la cultura però però abbiamo una natura meravigliosa i boschi le fragole le fragole il posto delle fragole certo il posto delle fragole e l'aria pura il cibo buono e soprattutto è un luogo sicuro non ti può succedere niente di male se vai al mare attenzione alle erre se vai in spiaggia dice il padre o sottintende il padre di Lucia ti può capitare di tutto in spiaggia dove ti metti nuda in mezzo a tutta gente che si mette nuda ma qui non ti può succedere niente quindi questa narrazione del luogo protetto protettivo sicuro e invece lì arriva il male e loro che cosa fanno il giorno dopo cominciano a dimenticarselo cioè questa cosa qui deve rientrare e deve essere rubricata nello straordinario nell'eccezionale è successo una volta una sola volta e non succederà mai più abbiamo tutti bisogno di rassicurazioni loro vogliono rassicurarsi non se ne parla più e allora secondo me mi hai fatto pensare tu adesso tutto questo male non elaborato forse gli entra dentro gli entra nelle ossa si localizza si cristallizza si mineralizza nelle ossa e a un certo punto ecco fragilisce si fragilisce a un certo punto c'è appunto c'è Achille un altro di loro della comunità dei dei pastori che va da lucia che invece in qualche modo cura le ossa e lì da quel momento comincia ad accadere qualcosa che se non è proprio una elaborazione ma è un movimento che comunque riporta sempre al luogo e io mi sono accorta a un certo punto che avevo proprio bisogno di una unità di luogo e che questo luogo poteva tenere tutto insieme il presente il passato e anche aprirsi verso il futuro e quando vanno sul luogo perché devono fare qualcosa lì devono fare una manifestazione adesso non diciamo di più questo Achille che era andato dalla fisioterapista tutto dolorante una volta che sta lì e fa un'azione sul luogo non sente più dolore tra l'altro è in quel momento che Amanda si sveglia dal diciamo da questo torpore al quale sembrava essersi rassegnata e si fa raccontare quello che è successo no? perché a proposito della cancellazione di questo orrendo doppio femminicidio Amanda non aveva memoria perché in famiglia non se ne parlava era appunto un'eccezione nel nella vita splendida bucolica di quel di quel posto che era bucolico perché era controllato dagli uomini anche no? c'era un posto sicuro non perché era un posto naturale ma perché era un posto sorvegliato dai pastori e dai cacciatori e dai cacciatori quindi che è abbastanza anche paradossale la cosa no? perché è sicuro magari non così tanto se ci sono dei cacciatori di mezzo ma nel momento in cui Amanda scopre quella storia comincia a chiedere di quella storia si si sveglia e e dice e e sua mamma in quel momento la ammira però c'è una parte in cui dice quasi non la riconosco ed è per questo che mi piace allora è questa l'altra cosa che secondo me c'è verso la coda del libro il momento in cui una mamma così tremante come Lucia capisce di non aver in fondo sbagliato di aver che questa estraneità la lega molto di più a sua figlia perché in fondo le ha permesso di nascere crescere essere chi è tant'è che lei non lei non avrebbe mai immaginato ma nessun genitore immagina mai che un figlio possa ritrovarsi e riaccendersi perché una storia del posto in cui è nato lo appassiona e invece è questo è questa la cosa stupefacente che come molti ragazzi peraltro di questo tempo io credo Amanda fa allora è a volte nella distanza che una figlia nelle straneità che una figlia e una mamma trovano il loro legame la saldatura del loro legame può succedere intanto in questa figlia è come su questa figlia è come come se arrivasse questo non detto gigantesco no che tutta la comunità ha protetto e che anche sua madre ha protetto poi qui ci sarebbe tutto il capitolo della amicizia tra Lucia e Doralice e su come questa amicizia si perda in conseguenza di questo di questo fatto di sangue però questa è un'altra cosa quello che voi interrompo un attimo solo per dire la Doralice è la terza ragazza l'unica sopravvissuta diciamo a questo a questo fatto di sangue non è uno spoiler è nelle prime pagine tra l'altro anche su Doralice poi vorrei due parole perché è un altro nome che sembra arrivare da un altro tempo da un libro di un altro tempo voglio dire che questo non detto che riguarda il luogo e riguarda la comunità cioè finché non ci metti mano passa passa di generazione in generazione e quindi arriva ad Amanda e Amanda che sembrava lì tutta tutta dormiente si sveglia proprio quando vede delle scritte fanno una camminata in montagna insieme al nonno e lei vede delle scritte per lei misteriosissime perché non sa niente perché nessuno le ha mai raccontato niente ma su queste scritte si fa riferimento a delle ragazze lei chiede alla madre e la madre qualcosa è costretta a dire quindi c'è sì come dici tu questa sorta di risveglio legato a qualcosa che lei intuisce è successo è successo lì sul posto e le è sempre stato nascosto adesso questo non significa che ci che ci sarà un happy end assolutamente noi alla fine non sappiamo che cosa farà Amanda semplicemente il risveglio è in questo interesse al luogo a quello che è successo prima a che cosa devono fare adesso in vista del futuro di questo luogo quindi in qualche modo Amanda riconnette tutti i tempi di questo posto e anche di questa comunità ricuce dove c'è stata quella interruzione perché nessuno ne ha mai più voluto parlare Amanda con la sua curiosità che così le sale dal dal profondo perché comunque lei è ancora giovane Amanda la madre la vede spenta dice da Milano mi è tornata una figlia spenta ma non è morta Amanda è viva ha dentro di sé una sua vita segreta ha dei dei movimenti misteriosi dentro di sé e quindi si risveglia con questa curiosità e da lì può partire anche per stimolare per stimolare intorno a sé la madre il nonno questa comunità a prendersi delle responsabilità su quella storia lei lo dice non mi avete mai raccontato la storia di questo posto ma io a questo posto appartengo perché sono la figlia la nipote sono nata in questo posto e sono anche tornata qui magari con un senso di sconfitta di fallimento però lei vuole prendersi delle responsabilità è in quello il risveglio poi non lo sappiamo che combinerà perché comunque è una scioperata se ne va a fare una cosa poi non si sa che cosa farà dopo però comunque c'è una presa di posizione ti sei interrogata sull'eredità che si trasmette ai figli esiste qualcosa che si passa indipendentemente dal racconto dal posto in cui si nasce da quello che si omette si cerca di non di non far sapere appunto ai propri figli esiste questa forza esiste sì o no qualcosa che si si passa io credo di sì credo che ci sia una eredità profonda che spesso passa nostro malgrado ho il sospetto che a volte passi come eredità proprio ciò che non vogliamo che passi perché è un movimento profondo di cui non abbiamo il controllo e sicuramente passano molto le omissioni come in questo caso passa il non detto il mistero passa passa l'omissione e poi diventa qualcos'altro magari anche qualcosa di brutto perché non non ne abbiamo più il controllo e a volte a volte la nostra volontà di protezione nei confronti dei figli fa più danni perché ciò che tu ometti per proteggere è comunque lì è solido solo che non viene nominato e quindi tu non sai come passa a un figlio ciò che non nomini può passare anche in in un modo brutto e fare più danni che di di quelli che avrebbe fatto la verità questo è un romanzo ambientato in un posto preciso che mi ha fatto pensare molto all'ultimo libro di Paolo Rumiz che è tutto un viaggio nell'Italia vulcanica e l'Italia che trema in particolare l'Italia del sud e lui dice perché io ho fatto un'indagine su la nostra identità geologica che a me quando l'ha detto io ho pensato bellissimo da sentire un po' più complicato da capire e invece poi leggendo quel libro si scopre che noi assomigliamo alle nostre montagne e siamo fumantini o tremanti perché assumiamo no anche la finta fermezza della montagna tra i boschi tra i boschi nei tuoi posti questa cosa c'è tu ti riconosci attraverso sei riuscita a definirti anche osservando il creato intorno a te l'entità della montagna perché qui si parla anche molto di montagna io sono assolutamente convinta dell'importanza della geografia nella vita delle persone e dell'importanza della orografia nella vita delle persone nascere in una piccola valle non è la stessa cosa che nascere nella pianura padana o a milano dove amanda voleva tanto andare perché l'orografia ti pone dei limiti ti pone dei dei confini ti pone degli orizzonti molto stretti che non ti fanno vedere il mondo che c'è al di là io quando ero piccola credevo sono nata in un posto così ma tra l'altro voglio voglio dire questo io parlo dell'Abruzzo perché lo conosco lo conosco bene e volendo parlare di quel tipo di geografie mi sembrerebbe anche stupido fare finta che lo ambiento da un'altra parte per vedere che sono che sono brava che non mi limito però l'Abruzzo è il nome che io do a questi posti qua di cui l'Italia è piena no le terre interne le terre alte la montagna quando io ero piccola sono nata proprio diciamo che sono nata sotto il dente del lupo no che nel libro io ero convinta che il mondo finisse a penne cioè a 30 chilometri più a valle io avevo quando ho visto il mare la prima volta avevo 8 9 anni è un ricordo precisissimo del senso di spaesamento quasi di paura che ho avuto davanti a questo muro d'acqua perché a me sembrava un muro d'acqua che ne sapevo di tutte le storie che la terra è tonda e quindi il mare lo vedi così eccetera eccetera vedevo un muro d'acqua che si muoveva leggermente e pensavo adesso mi prende e scusate sto divagando perché questa cosa del muro d'acqua ogni tanto mi torna negli incubi proprio e la la geografia ti forma ti educa o ti diseduca per esempio oggi viaggiando verso Pinerolo ci dicevamo con Gina la stessa cosa lei per le Alpi e io per gli Appennini è un'esigenza quasi fisica profonda io ho bisogno quando sto lì ho bisogno di avere quella quinta delle montagne e io penso che queste cose proprio si strutturino dentro di noi io mi sento rocciosa mi sento spigolosa mi sento pungente certe volte come le rocce e tornando alla questione dei nomi il padre di Lucia si chiama Rocco Rocco Rocca Roccia credo che tutto quello che ci sta intorno in termini proprio di 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 substrato di tipo di terra e di apertura o chiusura dell'orizzonte entri a far parte di noi io la sento questa cosa così come dicevi no le terre che tremano noi tremiamo tantissimo siamo sempre in uno stato di di terremoto latente cioè sotto sotto qualcosa sempre si si agita e questo ti influenza questo ti ti fa diventare quello quello che sei anche riguardo a una sorta di di fatalismo no che c'è in che abbiamo forse verso verso sud questo atteggiamento verso la natura a un certo punto ne parla il personaggio della PM della della magistrata no lei dice che vuole sfatare questa retorica della montagna della montagna buona della natura madre e lì Lucia va avanti con il ragionamento e dice la natura che ci nutre è la stessa che ci affama la stessa terra che fa crescere il grano le piante poi basta un colpo di vento e e perdi il raccolto e ti impoverisci ancora un po quindi c'è anche questo tema di tutta questa gente di tutta questa popolazione che non ha avuto scelta che è rimasta sul luogo di nascita non ha potuto scegliere altro quello che Amanda può scegliere se andare a studiare a Milano oppure no suo nonno non l'ha potuto scegliere c'è un momento breve in cui nel romanzo a proposito di terra che trema entra il terremoto all'Aquila e ti chiedo perché ci sono delle tu riporti delle conversazioni di Lucia con le altre persone di questo coro che deve andare a fare un deve andare a cantare a Collemaggio e ci sono molte persone che non vanno all'Aquila dal terremoto e se ne vergognano è una cosa che mi mi affascina perché hai raccontato questa cosa qua cioè il vergognarsi di non essere tornati all'Aquila che cosa significa beh quasi un abbandono no aveva abbandonato la città colpita distrutta ferita quindi tornarci dopo dopo tanti anni in quel momento uno si rende conto non ci sono andato più come non essere andati più a trovare il parente malato e invece trovano questo lo voglio dire perché anche la la realtà trovano una città bellissima trovano questa basilica che è un po' il simbolo della città tutta ristrutturata restaurata ma con i segni di quello che è stato quindi il restauro del dell'affresco con una con una crepa che è stata riempita con con lo stucco perché si veda quello che che è passato lì si veda la traccia resti il segno la ferita e la ferita rimarginata la cicatrice perché l'hai chiamato l'età fragile così come mi succede per i nomi prima dicevi dei nomi il titolo mi è venuto così ma la cosa particolare è come poi questo titolo nell'andare avanti con la stessura cambiava senso dentro di me all'inizio l'età fragile quando ho pensato l'età fragile pensavo ad Amanda quindi la giovinezza che anche può essere fragile nonostante sia anche la giovinezza gravata da tutte quelle aspettative l'età della felicità dell'energia della massima forza eccetera invece a volte è la più fragile dell'età e però poi andando avanti con la scrittura era come come se gli altri personaggi si ribellassero e ognuno reclamava per sé la sua quota di fragilità quindi il vecchio padre patriarca che non si vuole arrendere lo dice proprio io non vorrei ma sono vecchio ma soprattutto quella che poi mi ha toccata di più è stata la fragilità di Lucia forse perché è anche per per fase di vita personaggio più più vicino a me Lucia che è un po' in mezzo no a tutti gli altri e che deve farsi carico dei bisogni dei problemi delle fragilità di tutti gli altri quella di suo padre che ancora pretende da lei quella di sua figlia così difficile da trattare e lei è lì in mezzo tirata da tutte le parti e non può occuparsi della della sua fragilità questa è una condizione molto molto comune tra le donne di mezza età no che hanno i figli ancora da accompagnare i genitori diventati fragili ormai da assistere e quasi in tutte le presentazioni le donne della mia età o un po' più giovani o di poco più giovani di me si sentono insomma chiamate in causa e si riconoscono nella fragilità di Lucia lei dice ognuno mi tira di qua di là al proprio bisogno mi spezzano diresti che perché quando l'ho letto anche io all'inizio ho pensato quando ho letto il titolo dico all'inizio ho pensato anch'io che appunto si riferisse all'adolescenza e invece poi mi sono resa conto che non era così ma in realtà è proprio il nome del tempo che attraversiamo secondo me cioè se dovessi scrivere il sussidiario per il tempo per i ragazzini che faranno le scuole tra diversi decenni questi anni che noi viviamo li chiamerei così età fragile perché è proprio il tempo della scoperta della fragilità ti chiedo però se questa fragilità oltre a vederla forse per la prima volta in tutte le sue sfaccettature ci permette qualcosa in più una rivendicazione probabilmente anche e soprattutto se ci permette di capire che cos'è una parola però che cos'è il bene di ciascuno non so se tu l'hai scoperto tra l'altro secondo me scrivere un romanzo del genere significa fare anche un romanzo sul bene sicuramente se devo dire quale può essere il bene per ciascuno sarà una cosa di una complessità enorme ma una piccola porzione di quel bene per ognuno di noi è anche riconoscere la nostra fragilità perché la fragilità viene spesso confusa con la debolezza e questo è è un errore madornale uno può anche avere il diritto di essere debole ma sicuramente deve a se stesso di riconoscere la propria fragilità la propria fallibilità il diritto a sbagliare anche nelle cose più importanti come come la relazione con una figlia no? ecco quindi se non se non passiamo da lì dal sentirci fragili dal sapere che in ogni fase della nostra vita possiamo esserlo che è una che proprio insita la fragilità nella condizione umana perché siamo mortali e io quando ero piccola quando ho scoperto la morte piccola avevo tipo 12 anni ho passato un'intera estate tra la prima e la seconda media ad angosciarmi perché avevo scoperto la morte e quindi pensavo ah non solo io morirò ma morirà mia madre morirà mio padre è stata veramente una stagione terribile e la mia allora ero ancora credente sì insomma penso di 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 aver poi lasciato proprio in seguito a quella crisi diciamo ma la cosa che non accettavo assolutamente era questa perché non non ci è stata assegnata democraticamente una durata uguale per tutti campiamo tutti i cent'anni o anche novanta però stiamo bene tutti quanti ecco questa era una cosa che io ancora bambina non riuscivo ad accettare e penso di non averla totalmente accettata nemmeno adesso e mi sono persa no era la cosa della mortalità cioè non 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 possiamo poggiarci eh sul sul mito della della forza dell'onnipotenza non possiamo nemmeno pretendere da noi stessi troppo perché siamo mortali e non sappiamo non sappiamo quando ci arriverà non sappiamo cosa c'è dietro l'angolo non sappiamo quanto domani saremo forti o quanto saremo saremo fragili per cui penso che l'unico un tipo di bene che possiamo volerci è questo conoscere le nostre fragilità accettarle ma soprattutto perdonarcele perdonarcele a noi stessi e anche perdonarcele gli uni con gli altri cioè abdicare da questi atteggiamenti di di attacco di reattività violenta assistiamo anche in questi giorni a delle reazioni proprio immediate tac come premere un interruttore chiarissimo grazie 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 a te tantissimo grazie